Siamo qui, Massimo, i nerdi. Eh sì, un diavolo nel capello. È l'unica, vedi, ha tanti. Ha una chioma. Prima mi ha tirato lo schiaffo che mi ha fatto uscire il sangue dal naso. Ho ancora il naso pieno di dolore. Una camicia da notte è tutta scocca di sangue. Cosa ne ho fatto io? Io? Guardate, non ne metto niente, eh. Senti, mamma, mi avevo solo detto che non mi piacciono ancora i... mica tanto ci uguali. Sono tutti uguali. Oh, fa sempre dei braccietti fioriti, con solo un occhio immenso, spalancato, con le ciglia lunghe, moltate all'insù. È un occhio grande, immenso. Ti devo dire la verità. Io sono scusa di vedere sempre quell'occhio. Me lo sono anche di notte. Te l'ho detto. È grande. È immenso. È giallo. Allora, sei un uomo o un uomo. Ecco. Sì. Mamma, sei. Allora sai che scrivi, eh. Prendi nota. Alberto Collo d'Oro. Sì. Ma non Collo d'Oro. Collo d'Oro. Montesauro. Provincia di Todi. Come? Non è provincia? Ah sì, è provincia, è provincia. Tieni presente che è qui. Delica. E finché non arriva il tuo bagno, noi non possiamo proseguire. Poco. Poco, ne ho poco. Mamma, quello che abbiamo non ci basta neppure per pagare l'albergo. E ti preoccupi se il tuo è fresco. Mamma, io credo che io e Massimo non possiamo più stare insieme. Non lo so, non lo so. Io non lo sopporto più. Non lo so. Neanche lui mi sopporta più, eh. Letichiamo in continuazione. Non è molto difficile, mamma. È peggio. Abbiamo fatto una litigata enorme anche prima di partire. Sì, eravamo a tavola. Io gli ho detto che non avevo nessunissima intenzione. Sviattori. Lui mi ha risposto all'inglese che se non partivo con lui mi avrebbe sbattuto fuori dalla porta. Parlava l'inglese perché c'erano le bambini. E io gli ho risposto all'inglese che non poteva sbattarmi fuori dalla porta perché mi era data. L'abbiamo comprata con i soldi che ci ha lasciato il tuo papà. È intestato e l'ottile. Ma io non furto. Lui stava mangiando un cacolo. Ma domina cosa ha fatto. Ha preso quel cacolo e lo ha spiaccicato sul pavimento. Io allora ho preso un cucchiaio e mi sono messo a pulire. Ma no, le papine no, spaventate. Anzi, divertite. Me ne preoccupa. Che figo? Mi ha strappato di testa la parrucca. E me l'ha spaventata giù dalla finestra. La mia parrucca ha fatto un volo ed è finita su una tettoia in una pozza di pioggia. Così ho dovuto mandare giù la donna a carri sotto, sì, dove abita un farmacista. Così la donna e il farmacista, con una scopa, hanno un pescatore a manucca. Tutta sporca di fango e bagnata. Allora ho detto alla donna di vestire le bambine e di portarle le abili per la borghese. Quando sono rimasta sola per il massimo, ma mi è venuto la gran rabbia che gli ho preso a ricarci tutte le sue tele che erano posate in tempo nell'ingresso. Sono in cinza, hai capito? Sono in cinza di Francesco. Ma non voglio partire, no. Questo bambino lo voglio. Andrò a vivere con Francesco sia tra da lui. Andrò a stare in via di Gesù. A te mi lascio in casa. Tu potrai rimanere lì. Sì, in via di Gesù. Non te la regalo di te e delle bambine. Pagherai affitto? Sì, in settanta di maniera. No. Ottanta. Sì. Mi sa, mi vado proprio il naso. Esci pure da prima delle due bambine. Aiutami, guardami che asciugamano. Ho sporcato tutto il baglione. E io ho solo questo il baglione. Attimo! La prendo lentamente. Dimmi tu guardi. Poi lo prendi. La prendo lentamente. No, 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 no. Massimo, ti informo, questo è il vecchio top, Massimo, ti informo che mia madre rimane dei soldi, povera mamma, era un po' sgomenta, era un po' sgomenta, ma scusate, era un po' sgomenta, sbaglio dita, sbaglio dita e sgomenta, le ho raccontato tutto, le ho raccontato tutto, io mi fino a toccarmi, le ho detto, le ho detto anche una cosa che tu non sai ancora, la stacca, la stacca è che se c'è la mia vita, la mia vita, la mia vita, la mia vita, poi cominciamo la confessione del tuo. Massimo, no non ci sta Massimo, devo dire che sono incinta, come lo dico? Tu sai che sta dietro la tua? Eh sì, da volta del bagno, per cui io dico sbaglio dita e sgomenta, le ho raccontato tutto e sono ancora qui che faccio qualcosa. Eh decidili, aspetta qui, le ho raccontato tutto, le ho raccontato anche una cosa che tu non sai. Sono incinta. Ah, allora, allora, le ho raccontato tutto, le ho raccontato anche una cosa che tu non sai ancora, che sono incinta. Ho fatto l'amore con Francesco solo un po' di volte, però sono rimasta incinta. Ma adesso ho fatto l'amore con Francesco solo un po' di volte, però sono rimasta incinta. Ironica e sarcastica, perché non lo sai solo. Ce l'ho sospettata, posso tenere, insomma. Sì, tanto l'ho pieno. Ho fatto l'amore con Francesco solo un po' di volte, però sono rimasta incinta. Mi hai sentito? Sì, devi avermi sentito, perché l'hai spesso di fischiare. Nevica sempre. Nevica sempre. E io c'ho sempre lo specchio, così faccio qualcosa, perché lo rimini. Quando dico cosa faremo oggi, solo Dio lo sa. Io c'ho sempre lo specchio, però. E poi, vai. Dopo questa frase. Questo mi hai perso in un momento, perché vai nella scala. Cosa faremo oggi? Io solo lo sa, quindi da anche questa camera. Ragazzi, cosa faremo oggi? È come se avessi risposto a una domanda di Massimo. No, invece no. Cosa faremo oggi? Cosa faremo oggi? No, cosa faremo oggi? Cosa faremo oggi? Cosa faremo oggi? Ah, lui, dici. No, è una domanda di Massimo. Ehi. No. Io dico che sono incinta. Mi hai sentito? Sì, devi avermi sentito, perché hai messo di fischiare. Nevica sempre. Cosa faremo oggi? Cosa faremo oggi? Cosa faremo oggi? Cosa faremo oggi? Solo Dio lo sa. E poi intanto prendo il pacchetto di sigarette e ne ho avvicinato. Beh, scusa. Che stuzziamo questa camera? Cosa faremo oggi? No, scusi, io lo sa. Ma non è questo. Cosa faremo oggi? Cosa faremo oggi? Mi dici oggi. Cosa faremo oggi? Cosa faremo oggi? Poi dopo, solo Dio lo sa.